Inizi del XX secolo, una famiglia benestante vive nella Trieste austro-ungarica, ma la prima guerra mondiale la sfalda e la porta in povertà, lasciando tanta frustrazione e immenso dolore. Ma la guerra fortunatamente non è eterna e la vita, anche se con fatica, riesce sempre a ricucire anche i più profondi dolori. Su queste note si dipana il romanzo di Gloriana Orlando, La guerra degli altri, di Albre Editore. Oggi ne parleremo con l'autrice a Dalla parte del libro. Benvenuti e adesso sigla. Amici di Globus, buonasera e benvenuti ancora una volta dalla parte del libro. La vostra fedele vetrina di novità letterarie, ma tante tante passioni culturali. Oggi il romanzo di cui parliamo è un romanzo che aleggia tra realtà e anche fantasia da parte dell'autrice. Stiamo parlando di una Trieste austro-ungarica che ritorna a essere italiana, ha una famiglia che vive quella realtà e non la vive in maniera soddisfacente, non la vive in maniera così allegra. Anzi, però di tutto questo ce ne parlerà Gloriana, Gloriana Orlando, grazie di essere con noi, che è l'autrice appunto della guerra degli altri. Allora, Gloriana, devo dirti, cominciando diciamo questa pillola culturale, che a me è piaciuto molto il libro. Anche per ragioni personali, ma quello è un discorso che è mio. Però mi è piaciuto perché effettivamente è la storia di una famiglia, la storia di una famiglia che potrebbe essere importante, ma che la vita la porta ad essere, cioè ad avere tantissimi, chiamiamoli dolori, un po' la sfalda. Però poteva essere la vita di una di tante famiglie che erano in quel periodo, stiamo parlando appunto durante il periodo della guerra, della prima guerra mondiale. Ma tu sei di Catania, tu vivi a Catania da sempre, nella tua terza di copertina, cioè, ma chi ti ci porta a Trieste? Eh beh, io sono per metà di Catania, sono nata qui, ma sono solo per metà catanese, perché mia mamma era triestina, quindi ho vissuto comunque a Trieste, andavamo tutte le stati, quindi come si dice, dell'anno e di mia vita il più bel fiore, direbbero i poeti. Ho dei ricordi bellissimi della mia infanzia e dell'adolescenza nelle stati di Trieste. E poi però sono per metà, appunto il mio cuore per metà siciliano e per metà triestino. Questo è il primo libro che dedico al ramo triestino della mia famiglia, mi sembrava giusto, perché ho scritto sempre romanzi ambientati a Catania, bisognava dare voce anche a questa parte della mia famiglia, che peraltro è una parte importante e tormentata. Sì, sì, no, allora, chi avrà, diciamo, la fortuna anche di leggere questo libro, secondo me troverà molto. Però, ecco, parli della tua famiglia, quindi i personaggi sono, diciamo, per un buon 80% sono tutte persone reali, sono persone che sono esistite comunque. Sì, sì, sono personaggi, certo, chiaramente poi non tutte le vicende sono reali, però questa famiglia, così come è raccontata, come è strutturata, corrisponde alla famiglia di mia nonna, il fatto che lei sia rimasta vedova, che abbia perso il figlio, oltre al marito, anche il figlio in guerra e poi l'altro figlio è morto, insomma queste figlie femmine che le sono rimanere, insomma tutti questi sono personaggi reali e poi ci si lavora sopra. Diciamo che stiamo parlando di una famiglia che vive in una triestra austro-ungarica, praticamente benestante e quindi con tante risorse economiche e soprattutto con tanta apertura intellettuale, tanta apertura culturale, tanto che la protagonista, che è una delle ragazze, una delle figlie, nel libro, forse è lei, no? Sì, sì, è lei, esatto. Ecco, anche quella della copertina, anche quella della copertina, perché è un quadro che ho io a casa. Perfetto, questa, infatti frequentavano i migliori salotti, frequentavano, poi tu mi dicevi poco fa che hai inventato anche questa grande attitudine della musica, il pianoforte, quindi ha questa anche desiderio, anche questo sogno di poter diventare concertista e per certi aspetti lo è. La guerra porta appunto a spaldare la famiglia perché muore il padre, muoiono anche i due fratelli e quindi questa donna si ritrova ad avere una situazione. Qui per esempio, ecco, qui c'è il, ecco, quello seduto è tuo zio Stefan. Sì, esatto, questa è la fotografia che dà il là alla vicenda. Esatto, perché, la possiamo vedere un attimo? Sì, sì. Perché nel libro, questa, vediamo se riusciamo con la, ecco, vedi, nel libro si parla di una fotografia, anzi di una serie di fotografie che vengono inviate dal comando e sono bruciacchiate perché questa parte che appunto è bruciacchiata è stata la pallottola che ha ucciso questa persona, questo è il suo zio Stefan. E questo diventerà anche un po', questa bruciatura diventa qualcosa che comunque è importante anche all'interno della storia perché la protagonista, vedendo sempre questa fotografia, pensa sempre a come è stato ucciso e chi avrà potuto uccidere il proprio fratello. quindi questa, la storia si dipane nel senso che questa famiglia diventa povera perché non ha più i mezzi economici per poter sostenere quelle che erano le spese e mancano soprattutto le braccia maschili e quindi c'è questa figura di questa madre che io la ritengo veramente quasi un'eroina che sacrifica tutto per poter portare avanti queste figlie. Questo corrisponde in realtà alla verità, sono racconti di mia mamma, io come ti dicevo prima non l'ho conosciuta questa nonna, perché mia mamma era la figlia piccola, insomma io sono nata dopo tanto tempo, per cui questa nonna già non c'era più, però i racconti di mia mamma invece erano molto vivi, molto intensi, quindi ho tutte queste cose che poi ho riportato nel libro, tutto quello che corrisponde a realtà e l'ho appreso dai racconti di mia mamma e mi sono fatto appunto quest'idea che era una donna veramente forte, del resto si comprende per essere riuscita a tirare su queste otto figlie, mia mamma era piccolissima, proprio era quasi appena nata diciamo. Quindi neanche tua mamma ha un ricordo di suo padre? No, 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 lei mi disse solamente una volta una cosa e un giorno venne a casa un uomo con la barba lunga, mi fece paura, quindi questo è l'unico ricordo di questo padre, siete che era venuto in licenza forse. Ok. E poi ovviamente è vero che questa donna è riuscita a tirare su queste otto figlie, insomma le ha sistemate pure bene tutte quante, quindi evidentemente si è rimboccata le maniche, non si è arresa con le sue fragilità, perché poi penso che venga fuori in più punti la fragilità di questa donna che si fa forza e però tante angosce, tanta paura. Però io leggendo il libro ho sempre avuto la percezione che lei avesse queste angosce, però cercasse in tutti i modi di non farle pesare alle figlie. Alle figlie, certo. Ci sono infatti una serie di episodi, per esempio quando la figlia, una delle figlie sposa un signore che aveva avuto fortuna in Brasile, quindi parte in Brasile e praticamente è come se perdesse un'altra figlia in quel caso. Certo, ma questo è vero perché in realtà poi questa è una parte della vicenda reale, poi non è più tornata, quindi non l'ha più vista questa figlia che si è sposata in Brasile. E anche l'altra, quella che si è sposata a Milano, a cui è dedicato un lungo rapido. Tutta la seconda parte. Tutta la seconda parte, appunto. E quindi anche quella l'ha vista poco, poi le disgrazie erano molto più numerose nella realtà di quelle che ho raccontato io, quindi non ve le racconto. E quindi, cioè immaginiamo, però esatto. Se già sembra un'eroina, tu sicurati nella realtà cos'era. Sì, però penso una cosa che alla fine mi rendo conto che comunque è molto realistico come romanzo, nel senso che comunque in quel periodo effettivamente tra le epidemie, la spagnola, tra la guerra, tra diciamo la medicina che non aveva fatto passi al gigante, era abbastanza, l'altra volta sentivo che la mortalità infantile era praticamente quasi al 50%, cioè quindi la tua nonna ebbe 13 figli. Ehi figli, eh. Già durante la guerra, la prima guerra mondiale, gliene erano morti quindi 4 o 5. Esatto. Non sappiamo nulla di loro, questa mia mamma non mi ha raccontato nulla, saranno morti da bambini forse. Anche il gemello di mia mamma è morto, è morto, sì. No, no, parlavi del ragazzino. Danilo è il più piccolo, il penultimo diciamo, il gemello di mia mamma invece è morto, penso durante il parto, non lo so. Sì, sì, no, perché è una cosa abbastanza… però ti ripeto, io rivedendo un po' questa cosa ho visto un po' quello che potevano essere soprattutto le angosce di una famiglia che da benestante, quindi vivendo in un certo modo, con certi agi e così via, si ritrova praticamente a doversi, appunto come dicevi tu, rimboccarsi le maniche. Tanto che la nostra protagonista, appunto Mila, che in questo caso anche lei, cioè lei soprattutto amava moltissimo la musica, suonare, suonava praticamente tutto il giorno, suonava il pianoforte anche a scapito delle orecchie delle sorelle, ecco, abbandona per un po' e nel momento in cui ha la possibilità di rientrare di nuovo in questo suo sogno, in questo suo mondo che è la musica, ne ha uno scossone emotivo molto forte. Sicuramente, perché lei l'aveva abbandonato come tutta la vita precedente, faceva parte ormai di una vita che lei immaginava adorata, era adolescente peraltro, quindi aveva questa vita bellissima che sembrava promettere grandi prospettive, quando tutto crolla lei proprio rimuove tutta questa parte. C'è la scena in cui portano via, tra le tante altre cose, il suo pianoforte, lei dalla finestra lo vede scendere, è abbastanza forte, però comunque tutto sommato questa famiglia riesce ad avere anche dei momenti di, diciamo, soprattutto dopo, dei momenti anche di gioia. Parliamo di Ida, la sorella che si sposa a Milano e incontra però una persona veramente, un saggio, una persona più grande di lei, infatti la madre ha moltissima paura che possa diventare, cioè così, un marito sbagliato, invece poi si rivela la persona invece più importante forse. Anche per Mila, per riuscire ad aiutare anche Mila a conciliarsi. Perfetto, questo stavo dicendo, sia per Ida, che è appunto la sua sposa che anche per Mila. Ecco, io vedo che praticamente però questa vicenda, diciamo che nel momento in cui tu leggi il libro, ha uno sfogo diciamo anche molto intellettuale, perché Mila per un periodo di tempo lavora in un caffè importante di Trieste e lì incontra tutta l'intelligenza italiana del periodo, quindi incontra, non lo so, i vari Saba, i vari... C'era anche Svevo. C'era Italo Svevo, c'era, ecco qui abbiamo... Ecco, questo è Saba. Certo, Saba, che era un tipo un po' particolare, no? Sì, sì, un tipo facile assolutamente. Cioè lui alla fine, nonostante fosse questo poeta così importante, diciamo rinnega quasi tutto e si chiude nella sua libreria. Sì, era pieno di problemi in quel periodo, si era diffusa a Trieste la psicanalisi, c'era Edoardo Weiss, era un discepolo di Freud che appunto aveva in cura un po' tutti questi personaggi, sicuramente tutti provati dalla guerra e anche lui fu lungamente a quanto pare in cura da Weiss, però non riuscì a risolvere... Lui trova il suo mondo in questa libreria di antiquari. In questa libreria di antiquari, sì, è vero, sì, questo risponde alla realtà. No, ma infatti ecco, la cosa bella, te lo dicevo un po' a telecamere spente, secondo me i libri ti servono, qualcuno diceva che chi legge vive più di mille vite, perché comunque la curiosità è estrema, perché tu poi parli anche in tutta la tua, e questa mi piace molto nella tua scrittura, è questa descrizione anche dei luoghi, perché tu parli sia di Trieste, ma parli anche di Praga, parli di Vienna, di questa città che sono sempre in evoluzione e quando parli di Praga parli naturalmente di Franz Kafka e addirittura che appunto... No, sono pillole in questo caso nel tuo libro, ma che sono secondo me importanti anche per far capire un po' come vivevano anche questi personaggi, quindi all'interno di questa famiglia c'era anche questo contatto, era permeata comunque, perché l'incontro con Kafka tu lo racconti col padre, ancora lei era molto piccola, cioè piccola ancora lei era una ragazzina, quando lei girava un po' per i salotti dell'aristocrazia europea, mette l'europea, e quindi io sono un'innamorata di Kafka e di Praga, quindi forse si vede. Io invece devo dirti che Praga mi ha un po' deluso, perché io l'ho vista già quando era diventata molto turistica. Io l'ho vista nei due momenti diversi, l'ho vista ai tempi della cortina di ferro e poi dopo. No, ma dice che era molto più bella in quel periodo, perché era molto più... Era più genuina, sì sicuramente, però conserva sempre questo fascino e poi io ho tutta questa vicenda che ruota attorno a questo periodo che lei vive a Praga, l'ho ricostruita attraverso gli epistolari di Kafka, anche di Lou Salomé e Freud, quindi ho un po' rimesso insieme tutti questi pezzetti e diciamo che questa parte che racconto di Praga corrisponde anche questa alla verità, perché c'era questo salotto della moglie del farmacista dove si trovavano tutti questi personaggi, ci fu un periodo anche Einstein che insegnava a Praga nel 1912, quindi tutto questo mondo mi piace un po' contaminare la realtà con la letteratura degli altri. Se ti devo dare un merito, praticamente io ho sempre immaginato Fan Kafka dopo che appunto aveva scritto le metamorfosi, le colonie penali e così via, sempre come un personaggio molto cupo, invece tu lo descrivi anzi come un uomo, tra virgolette un viver, cioè nel senso che andava molto spesso in teatri. Sì, da questo punto di vista sì, però era comunque una personalità tormentata, perché anche queste vicende d'amore che lui aveva, questa che racconto, no non l'ho portata alla fotografia, c'è una foto di Kafka con questa fidanzata felice che era bruttissima. Lui non era il massimo. Però voglio dire comunque lui aveva il suo fascino e quindi racconto quell'episodio quando vanno a cena e Mila pur essendo ragazzina rimane turbata, dice come quest'uomo così interessante con questa donna così brutta, però lui l'amava, ha avuto sempre queste storie tormentate comunque con le donne. Però viveva il teatro, il cinema, anche il cinema, erano i primi cinema. Certo, ma infatti ecco la capacità che tu hai avuto e ti ripeto io anche per ragioni mie personali mi sono un po' rivisto, ho rivisto un po' certe dinamiche familiari che comunque in quella zona sono molto, cioè stiamo parlando un po' di coloro che non si sentivano italiani e sono tornati, sono diventati italiani anche perché molto spesso non erano abbastanza giovani perché l'Italia era prima italiana poi è passata e poi alla fine praticamente l'ultima volta nel 1956 è diventata definitivamente italiana. No, invece parlando un po' del libro, io credo che il tuo abbia un bel messaggio, cioè tu praticamente fotografi prima questa famiglia, giustamente dal proprio punto di vista vede gli italiani come degli usurpatori, come degli invasori, come qualcosa che c'è, un popolo che va a invadere un'altra città e lei ha proprio quasi un odio per tutto ciò che è italiano, per la lingua italiana, lei si rifiuta di leggere libri in italiano perché praticamente ecco per loro. Poi il suo viaggio un po' che secondo me è anche un viaggio interiore, quello verso Milano, ma è un viaggio interiore perché proprio la fa evolvere, dà la possibilità a questa ragazzina che poi diventa giovane donna di vedere anche dall'altro punto di vista, questo è il messaggio più bello secondo me, quando lei riesce a capire che anche per gli italiani la guerra non è una cosa bella, non era un'invasione ma era riconquistare un proprio la propria terra e lì rivaluta secondo me anche l'italiano in generale, cioè la letteratura, la riscopre diciamo grazie al cognato, al marito di Ida, Marcello. Marcello esatto, sì il mio, io in realtà ho scritto questo libro tanto tempo fa e ho deciso di pubblicarlo in questo periodo di grandi guerre perché vuole essere un urlo di dolore contro la guerra, contro le atrocità, infatti sono raccontate in più punti proprio le atrocità della guerra, quando c'è quell'episodio del fidanzato che rimane traumatizzato da tutto quello che ha visto e che è stato costretto a fare e poi si suicida. Ma anche quello delle trincee, la doppia trincee, poi dietro andavano avanti. Sì, esattamente, tutte queste, ho trovato nei libri, mi piace fare la ricerca comunque prima di scrivere, quindi ho trovato tutte queste notizie e poi le ho un po' ricucite assieme, ma quello che volevo dimostrare era che la guerra comunque da qualunque parte tu la combatti, è sempre un'atrocità tremenda. Infatti in Quarta di Copertina tu metti questa, secondo me, bellissima poesia che poi fai scrivere, diciamo, a Stefan alla fine, dove c'è scritto la guerra ci divide, la guerra ci ucciderà, la guerra ci fa nemici anche se siamo fratelli. Ecco, questo è il messaggio poi alla fine. E' vero che lei scopre quando vede, leggendo le poesie di Ungaretti, lei si rende conto, dice anche lui ha sofferto, anche lui è stato in trincea, anche lui ha perso le persone care e quindi si rende conto che, insomma, siamo veramente tutti fratelli. Tutti, certo, siamo tutti fratelli e tutti vittime. Tutti vittime della guerra. Esatto, no, c'era un aforisma di qualcuno che diceva, cioè i ragazzi, i soldati vanno lì per combattere contro i nemici di qua e di là, ma possono essere fratelli, invece quelli che non combattono poi invece si mettono d'accordo e quindi… Quelli li mandano a morire. Esatto. Senti, noi diciamo che stiamo quasi arrivando in chiusura, però mi piace molto. Allora, io ho fatto un piccolo giochetto. Sentiamo. Nel senso che, leggendo un po', allora il tuo è un libro corale, per cui c'è una protagonista, però visto che percorre un po' la sua vita, lei incontra o si relaziona con diversi altri personaggi che sono in quel momento molto importanti per la sua vita. È vero, le sorelle, però ci sono sorelle con cui lei è molto più in contatto, altre che quelle che vanno via non ci sono. e poi per esempio c'è un personaggio che a me è piaciuto tantissimo, che è Carla, che è la sorella, la cognata di Ida, la sorella di Marcello, perché mi sembra un po' la gioia di vivere, cioè la leggerezza ma non superficialità. Cioè una persona che comunque vive la sua vita, la propria vita e nonostante sia agiata, nonostante... però è molto generosa verso gli altri. È vera questa mia... Sì, guarda, questo personaggio non c'è completamente nella vicenda della mia famiglia, è tutto inventato. E l'ho inventato appositamente per alleggerire questa situazione, sia per aiutare Mila, che in effetti poi è quello che accade nella vicenda, ma anche per alleggerire un po', perché quando Mila va a Milano la sorella ha una gravidanza difficile, sta a letto, insomma tutte queste cose diventava una tragedia senza fine. Anche perché all'inizio ti confesso una cosa, che quando lei arriva a Milano e vede la sorella in quello stato, cioè io ho avuto paura che non fosse per la gravidanza, ma che fosse per una depressione che lei aveva preso magari, cioè che si era impadronita di lei. Poi invece si scopre che... Sì, comunque era una gravidanza difficile, però anche lei la viveva male, perché si sentiva forse anche lei in colpa nei confronti della madre, a volte faccio trasparire questa cosa. Certo, soprattutto su Mila. Esatto, soprattutto su Mila, che non proprio si rifiuta di vivere pensando a tutti quelli che sono morti, alle sofferenze di sua madre, tutte queste cose che sono capitate nella sua esistenza. Ma anche, a volte anche Ida, sia per la gravidanza difficile, sia per quello che ha vissuto, le difficoltà che comunque, anche se adesso insomma le ha superate tutte, e comunque ha un... anche quella è una personalità molto sofferta. Allora, Carla può rappresentare la gioia di vita, è un attucur. Marcello io invece lo vedo come l'amore gentile, come... L'amore cortese. Esatto, l'amore cortese, il cavaliere di una volta che magari non c'è più. Catarina è la forza, nonostante le proprie fragilità è la forza, cioè la determinazione. Poi c'è Ida, che secondo me è la più fragile di tutti, nonostante sia forse in una situazione agiata, ma è quella che si carica addosso moltissimo, quindi c'è una grandissima fragilità. E Mila è la curiosità, Mila è la scoperta. Sì, è vero. Cioè, fino a quando non riesce, poi alla fine riesce anche a chiudere un po' il cerchio con un episodio che avviene, ecco è questa, è la continua... Non si avrende anche lei, continua comunque. Sì, ma più con una questione non tanto di forza e di determinazione, quanto di curiosità. Cioè lei, quando era per esempio nella libreria, all'interno della libreria, ecco quei libri diventano come, diciamo, un tesoro da scoprire. Infatti io l'ho concepito come una storia di libri, perché se ci pensiamo, lei comincia a frequentare tutti questi salotti dove viene in contatto con personalità, di cui cerca di leggere i libri pensando di trovare quel mondo dorato, e invece quelli erano personalità che già avevano chiarissima la fine del... Anche le proprie sofferenze, lei sì, li vedeva infatti come persone, diciamo, irraggiungibili. E quando li vede questa serve a lei anche per evolvere il proprio modo di pensare. E poi sempre attraverso i libri lei, da un lato, accetterà il fatto di essere italiana, attraverso la lettura finalmente di testi in italiano che prima si rifiutava di leggere. E poi appunto ritroverà il senso della vita attraverso i libri. I due messaggi erano la critica disperata verso la guerra e l'importanza della lettura come antidoto. Questo sì, credo che possa essere un buon antidoto. Ma poi ti ripeto, secondo me anche questo è il messaggio del riuscire a capire che ci sono diversi modi di vedere le cose, diversi punti di vista. E quindi uno si deve anche immedesimare negli altri che vivono forse le tue stesse preoccupazioni, le tue stesse dolori, ma dall'altra parte della trincea. Esatto, difatti la guerra degli altri, io ho raccontato, facendoci caso, quando finisce la guerra dice, ah hanno vinto, dice Mila, sono entrati a Trieste e hanno vinto. Perché è il punto di vista di chi stava dall'altra parte del fronte. Era assolutamente sì, era da perdente e così via. Però mi piace chiudere questo incontro con una cosa che alla fine, come già dicevi tu, arriva qualcosa che fa chiudere un po' il cerchio e raddolcire tutto. E far sì che la vita, anche se ha avuto dei trascorsi veramente dolorosi, poi alla fine si scioglie il dolore. Perché quando si riesce a chiudere il cerchio, si va avanti in maniera molto più serena e tranquilla. E questa è l'ultima parte del tuo libro che ti ripeto, mi è piaciuto molto. Sicuramente è tutto inventato, questo sicuramente. Sì, questa parte qui che chiude tutto il cerchio è inventata. Però è una bella chiusura, mi è piaciuta molto. Sono contenta davvero. Speriamo che piaccia anche ai lettori che si pronunceranno. Assolutamente sì, io ne sono convinto. Perché chi conosce, cioè un po' il dolore, ma chi conosce la guerra, appunto tu parlavi di guerra, questa effettivamente, e secondo me anche un estimatore potrebbe essere Alessandro Barbero. Lo storico. Perché lui ama queste cose, io ne sono assolutamente convinto. E bisognerebbe trovarlo. È un po' difficile. Va bene, Gloriana, io ti ringrazio tanto. Ti ringrazio. È stata veramente una bella puntata. Sono contenta per l'avversamento e per la dinamica che si è creata. Sì, assolutamente sì. E allora, per quanto riguarda noi, oggi abbiamo parlato con Gloriana Orlando, La guerra degli altri, Algra editore. Vorrei salutare anche il nostro Alfio Grasso, che appunto è il nostro editore preferito. Per il resto, cosa posso dirvi? Grazie veramente di essere stati con noi. Spero che questa puntata sia stata apprezzata come le altre. Ci vediamo la prossima volta con altrettanti autori importanti e interessanti. Grazie ancora e buona vita a tutti. Ciao. 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 Grazie a tutti.